Dopo quelle del corso di Tecnologie Alimentari della Facoltà di Agraria, al campus di Santa Monica è il giorno di benvenuto per le matricole di Economia Aziendale che hanno incontrato il direttore di sede e la preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Anna Maria Fellegara, che si dice molto soddisfatta per le richieste ricevute dai corsi. È stato un grande successo, abbiamo superato una barriera storica, abbiamo più di 90 iscritti alla triennale in Economia Aziendale e 59 sono gli iscritti alla nuova laurea magistrale. Quindi è un risultato straordinario che conferma la qualità del progetto educativo e formativo che proponiamo, sia sui due livelli. Alla nuova magistrale in Innovazione e Imprenditorialità Digitale, molte aziende legate al settore hanno dato il loro sostegno. Cremona è nota per tante caratteristiche nel settore economico, ma questa forse è quella meno nota eppure di una potenza di fuoco notevole. C'è tutta una realtà di imprese che operano nel settore dei sistemi informativi, dell'intelligenza artificiale, della digitalizzazione, che è proprio il tema centrale su cui per esempio si sviluppa il programma del governo della comunità europea. Sento veramente orgogliosa per la scelta che hanno fatto questi ragazzi che si rendono disponibili a svolgere un servizio per il loro paese, guidarlo verso una modernità ulteriore per non rimanere indietro. È una chance che danno a loro stessi, che li gratificherà tantissimo, ma è una grande opportunità per il nostro paese. Questo tipo di fabbisogno è fortemente sentito, noi cerchiamo di rispondere.